Quello che ci viene, le informazioni che ci vengono riportate, sembra che sulle coste dell'Africa ci siano circa 250 milioni di richiedenti aiuto, profughi di persone, di cittadini, di uomini che vogliono uscire dalla loro condizione e hanno come Miraggio, come il Dorado, la nostra vecchia Europa. E questo può essere un problema, anzi non può essere, è sicuramente un problema anche perché noi in Europa siamo 600 milioni, 250 milioni, qualche problema ce lo può comportare. Quindi secondo me già approcci come quello dello SPRA, a differenza quello di Madre Nostrum, aiuta a capire nel dettaglio anche gli interventi che si possono fare, come vengono messe le risorse. Se però stiamo parlando di una goccia in mezzo al mare, perché stiamo parlando con SPRA di veramente una goccia in mezzo al mare. Se confrontiamo le risorse che stiamo mettendo con i 250 milioni che spingono per entrare, perché non è che se ci vogliamo mondare la nostra coscienza dobbiamo considerarli tutti. Ed è per questo motivo che io vorrei capire un po' di cose, perché stasera si parlano di una convenzione di 100 emigranti, di 100 richiedenti. Però io da quello che ho letto sul giornale, dal colloquio che c'è stato fra i sindaci e il prefetto a Modena, facendo la somma dei conti che sono venuti fuori dall'articolo sul giornale, io vedo Vignone 63 unità, Castelnuovo 37, Castelvetro 28, Spilambeto 32, Marano 13, Zocca 12, cioè dopo gli accordi sul territorio dell'Unione, se i numeri dei giornali erano corretti, abbiamo 233 unità, niente, non abbiamo nulla. Però sono 233 unità e stasera parliamo di 100. Vorrei capire se intanto i numeri che sono usciti fuori sui giornali sono corretti, se abbiamo tutte le coperture e poi vorrei provare anche magari a fare una proposta da provare a mandare a Roma e ve la butto lì. Le 233 persone che abbiamo all'interno dell'Unione avrebbero un costo all'anno di 3 milioni e 100 mila euro. 3 milioni e 100 mila euro sul nostro bilancio è qualcosa di importante per la gestione solo di 233 richiedenti aiuto. Io penso che forse, anche da parte dei comuni che devono fare la loro parte, penso che diventi importante mandare anche un messaggio centrale verso Roma, verso il nostro governo e cercare di fare delle proposte dove provare a aiutare chi ha bisogno nella terra da cui viene. Perché qua non riusciamo sicuramente a fronteggiare i 250 milioni di richiedenti aiuto. E perché facendoli in questo modo, questa leva, questi 3 milioni e 156 mila euro, possono diventare una leva non per un aiuto, non per 233 persone, ma per, a 5 euro al giorno, per 1700 persone. È la stessa politica che io vedo, che mi viene proposta per Natale, quando la pubblicità mi fa vedere, aiuta un bambino in Africa, dona un euro, fai. Cioè è chiaro che se li portiamo e pensiamo come unica forma d'aiuto, quello di accoglierli to cure, creiamo, secondo me non riusciamo, uno a soddisfare, a risolvere il problema, perché è un po' come vuotare il mare con un secchiello, non si riesce a vuotare, uno quello, creiamo, si rischiano di creare dei problemi anche all'interno del nostro, anche del nostro tessuto sociale, perché più di tanto non riusciamo ad accoglierne, anche perché la crisi sta mordendo, ci sta mordendo, insomma, la vediamo. I cittadini vengono sempre più a chiedere servizi, cioè le difficoltà oggettive ci sono. E poi anche perché fondamentalmente io penso che non sia giusto che una persona per stare, vivere in pace, debba obbligatoriamente dover cambiare regime o dover cambiare Stato, cioè piuttosto che cambiare regime si fa prima cambiare il Presidente di quel regime o quella pseudodemocrazia per renderlo e portare in quella nazione standard di vita e standard democratici più simili ai nostri, in modo che sì, ci sarà una migrazione, però sarà una migrazione qualificata, sarà una migrazione, fra virgolette, che riusciamo a controllare e non fatta sotto la pressione di bombe o sotto la pressione di governi pseudodemocratici o non democratici, che insomma li sentiamo anche tutti i giorni, che ogni riferimento alla Turchia è causale, che utilizzano anche queste popolazioni, questi uomini in stato di bisogno come arma e come mezzo di ricatto per l'Europa. Quindi sono favorevole, però vorrei capire, uno, se i numeri che prima vi ho detto, i 233, sono corretti, perché questo è quello che ho letto dal giornale, se abbiamo tutte quante le coperture e se possiamo pensare anche di fare una proposta allargata un po' a tutte le liste, da provare a mandare giù a Roma, perché noi con questi qua arriveremo oltre al 2,9 per mille se siamo 80.000 abitanti, quindi siamo oltre a quello che dovremmo prenderci. Va benissimo, però... Grazie. Lascio la parola all'assessora Monica Mici. Sì, cerco di rispondere al consigliere Giannaroli e chiedo a Monica, alla dottoressa Rubenese, eventualmente di integrare. Innanzitutto il tema dei numeri che sono stati riportati sulla stampa probabilmente non è chiaro. Come avviene? Il riparto innanzitutto viene rispetto ad un accordo fra Anci e il Ministero per una quota del 2,5 per mille sui territori. Questi 100, che poi sull'Unione sono 33, quindi sono 100 per i comuni aderenti alla stoscrizione di questa convenzione, ma sull'Unione sono 33. non sono un di più, ma sono un di cui della quota che l'Unione Terra di Castelli come territorio deve raggiungere. Pertanto, noi ad oggi ospitiamo 129 richiedenti asilo, ma siamo ancora sotto quota, perché per raggiungere il 2,5 per mille dovremmo ospitarne 218. Per tutti questi, chiaramente, esiste una copertura. Certo, la copertura è data dalla Prefettura direttamente alle cooperative e comunque per il progetto SPRAR direttamente al Comune capofila dell'Unione Terre d'Argine e finanziati anche dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, eccetera, eccetera, richiedenti asilo. Insomma, quindi la copertura per questi eventuali 218 che dobbiamo arrivare ad accogliere è assolutamente assicurata, insomma. Grazie, Ose. Beh, guardate, cercherò di essere anche abbastanza sintetico. Penso che questa convenzione che andiamo ad approvare, o comunque a votare, insomma, sia un passaggio importante e la discussione che stiamo facendo credo ne sia assolutamente testimonianza. Per quello che riguarda il nostro gruppo, maggioritariamente l'indicazione è quella di votare a favore, poi cercherò ovviamente di motivare le ragioni di questo voto, fermo restando che, come dire, il peso politico è talmente evidente, anche con possibili, come dire, discussioni a livello generale e nazionale, che è ovvio che ciascuno dei consiglieri che compongono il gruppo è libero assolutamente di votare come meglio crede. A me come capogruppo spetta di rendere conto in aula di quella che è stata poi anche la discussione quando ci siamo ritrovati. Mi ero fatto una serie di appunti, scusatemi, ma questi pochi minuti proverò ad andare a braccio, o almeno in parte a braccio, perché il voto favorevole, devo dire, in maniera abbastanza convinta per quello che mi riguarda a questo progetto, perché credo siano i termini stessi nei quali è stato illustrato che vanno tutto sommato nella giusta direzione. Intanto, come dire, al di là del fatto che economicamente l'Unione Terre di Castelli non ci mette un euro formalmente, non è tanto questo, è l'idea che sta dietro, che è stata anche giustamente evidenziata, e per questo credo dobbiamo ringraziarlo dal dottor Fiorini. Parliamo di un progetto di area vasta 2017-2019 dello Sprar, che è vero che ha il 95% dei finanziamenti a carico del Ministero, il 5% a carico dell'Unione Terre d'Argine, ma ragioniamo di una seconda accoglienza, quindi già di persone che sono state individuate, che comunque hanno acquisito lo status di rifugiato, e che quindi hanno, tra virgolette, il diritto, o comunque la necessità di trovare integrazione e accoglienza nei nostri territori, a maggior ragione andando nella direzione di valorizzarne il ruolo a livello di lavori utili, volontariato, eccetera. Quindi devo dire che in un contesto difficile questo è un progetto che ha degli elementi convincenti, poi è evidente che costa, e non costa poco, però, come dire, credo abbia anche diversi elementi convincenti, compreso, lo ricordava poc'anzi il sindaco Caroli, non ci torno io, ma anche altri direi, il ruolo degli enti locali, perché questo è un altro elemento, per quello che mi riguarda e per quello che ci riguarda, sarà discriminante, perché, come dire, non è molto simpatico amministrare un comune e non essere nemmeno informati dell'arrivo di X profughi richiedenti asilo, quando poi, ovviamente, l'ente locale oggettivamente deve giocare un ruolo, perché non può non farlo in qualsiasi situazione. Il fatto che gli enti locali siano stati coinvolti, e la discussione che stiamo facendo, credo lo testimoni, è un elemento qualificante di questo progetto, credo che sia un elemento qualificante, e per noi molto, molto importante. Siamo ancora all'interno di quelle che sono le percentuali dell'accordo tra Anci e Ministero, che io credo, scusate il cinismo, non lo so, la franchezza, credo che quelle percentuali vadano applicate alla lettera. Cioè noi dobbiamo arrivare, se saremo chiamati a farlo, al numero massimo, e poi però, come dire, ci deve essere un elemento di condivisione complessiva. Non che chi è disponibile ne prende sempre di più e gli altri stanno a guardare, perché questo è un elemento che va chiarito, secondo me, molto bene. Ci deve essere un percorso di corresponsabilità. C'è un accordo con un numero, una percentuale? Quella, credo, vada, si arriva, si applica, e poi, come dire, ci sarà un ragionamento da fare anche con chi non è ancora arrivato a quel punto, perché questo ci garantisce, o almeno dovrebbe garantirci, un elemento di tenuta anche a livello complessivo e a livello sociale. Ecco, quindi, sul ragionamento, diciamo, sulla convenzione, quindi sull'atto che noi andiamo a discutere e a votare, io sono assolutamente d'accordo, o almeno prevalentemente d'accordo. Questo non significa, per quello che mi riguarda, ma credo di ragionare in questo caso un po' a nome di tutti quanti i rappresentanti dei nostri componenti, del nostro gruppo. Questo non significa, in alcun modo, condividere le politiche europee o le politiche nazionali in tema di immigrazione e di accoglienza. Guardate, io credo che noi dobbiamo affrontare questa discussione, e non sarà forse l'ultima volta che lo faremo, cercando di evitare di fare di tutta l'erba un fascio. Cercando di avere, come dire, la capacità, è difficile, credo, di fare delle distinzioni, evitare una discussione astratta. Quindi evitare, da una parte, un atteggiamento forse un po' cinico nel senso reale del termine, ma dall'altra parte anche evitare l'atteggiamento speculare, che è quello di, come dire, fare un po' finta di nulla, porre i temi in maniera astratta, senza poi invece ragionare anche in termini concreti. Perché guardate che i numeri, che non sono tutto nella vita, ma, come dire, ci danno una linea tendenziale, i numeri fanno abbastanza paura. Credo che ci dovrebbero far riflettere. Tra il 2007 e il 2015 la produzione industriale in Italia è calata del 22%. Questi sono dati che si trovano tranquillamente. La disoccupazione è aumentata del 5%. Sono raddoppiati il numero degli stranieri residenti, siamo a 5 milioni. E il dato, che credo, era su tutti i giornali anche due o tre giorni fa, nei primi due mesi di quest'anno 2017, abbiamo raggiunto il 32% in due mesi di tutti gli sbarchi del 2016. La stima, almeno così dicevano i giornali, io non ho controllato il sito del Ministero perché francamente non ho fatto in tempo, la stima, che citavano diversi quotidiani, che proviene dal Ministero degli Interni, è per il 2017 il raggiungimento di 250.000 immigrati che arrivano con i mezzi di fortuna che tutti conosciamo. Con, come dire, sempre più l'idea che ci troviamo di fronte a un dato strutturale, lo ricordava Giannaroli, con un numero, ma credo che volesse dire anche questo, e non più emergenziale. Ecco, credo che vada fatto uno sforzo maggiore anche da parte dell'Unione Europea e, come dire, del nostro governo su questo tema.